questo insieme di grandi eccellenze. Anche lì, come ho fatto con Ilaria, ci siamo dati un buon'opera alle scatole al Corriere da Sera, soprattutto all'edizione della lettura della Domenica, dove il 25 di marzo era stato presentato un volume dedicato a Dante e soprattutto con degli scritti dedicati a giovani. Il volume, io me l'ho comprato, è una piccola edizione del Corriere, ma molto interessante, dove erano rappresentate 25 illustrazioni di visioni contemporanee del poeta, questo era il titolo, ed erano 25 designer italiani e non, anche europei, che interpretavano Dante ovviamente nella sua maniera. Grazie. Grazie.